Il binomio tra Eden Viaggi e WL Carpegna Prosciutto Pesaro si rinnova dopo un decennio, continua il suo delizio tra i due marchi e la Eden Viaggi, nonostante il passaggio al gruppo Alpitour, continua la sponsorship e la partnership con la società Biancorossa. La presenza di Eden Viaggi che ormai ci vede collaborare, ci vede uniti da più di dieci anni, è una presenza importante del consorzio, unitamente a tutti gli altri consorziati che danno la possibilità, sostenendoci, di poter proseguire l'attività e cercare di offrire ai nostri tifosi il meglio possibile. Io personalmente, ma tutti noi della WL, siamo molto felici e orgogliosi di proseguire questo legame con Eden Viaggi e naturalmente speriamo tutti in meglio, come ho detto, l'entusiasmo e la voglia di migliorare che accompagna come elemento principale la natura della WL di Eden Viaggi, speriamo che anche quest'anno possa dare soddisfazione. Un po' di anni fa viaggevamo con Eden Viaggi in giro per l'Europa, naturalmente quello può essere veramente un obiettivo e certamente ci vediamo affiancati con questo legame con Alpitour che è un marchio a livello mondiale, è un leader mondiale, quindi ci fa grande piacere e speriamo di viaggiare con loro nel prossimo futuro e andare a fare le trasferte come una volta. Siamo vicini, siamo tifosi ovviamente e abbiamo voluto dare un segnale di continuità ma soprattutto di sostegno con le nostre possibilità sia alla squadra sia alla città di Pesaro che rimane nel nostro gruppo un punto centrale dello sviluppo. Sono stati mesi veramente molto molto duri, molti hanno pensato che si potesse viaggiare per turismo, in realtà questo è accaduto solo sull'Italia ma per l'estero invece è stato pressoché impossibile andare e viaggiare. Fortunatamente abbiamo qualche segnale di ripartenza, ieri un'ordinanza ha aperto qualche corridoio turistico e ci rimettiamo in moto e questo lo vogliamo leggere come un auspicio per l'anno che verrà sia per noi Tour Operating sia anche per la squadra che speriamo faccia un ottimo campionato. La società Eden Viaggi è una storia, leggenda, un sacco di contenuti, quindi non solo non smentiamo se ce n'è ancora bisogno ma mi sembra che sia una storia vecchia queste preoccupazioni ma anzi concentriamo su Pesaro tutta una serie di attività che facevamo nel gruppo e le concentreremo in una nuova sede di cui parleremo in gennaio dell'anno prossimo. Proprio qualche giorno fa abbiamo presentato l'estituzione dei nostri brand e quindi la nostra offerta al mercato. L'idea è quella di cercare di sposare il più possibile l'offerta alle esigenze dei consumatori. Eden Viaggi prende in carico un ruolo importante che è quello, se vogliamo, dei concetti più moderni di viaggio, dei concetti più di costruzione, meno pacchetto e più soluzione personalizzata.